Salve lettore di BadComics.it e benvenuti in una nuova video recensione. Oggi sono qui per parlarvi di un manga che abbiamo ricevuto in anteprima digitale, edito da Dainit per la collana Dainit Showcase. È uscito lo scorso 28 marzo e si intitola Underwater Vol. 1 di Yuki Urushibara. Yuki Urushibara è probabilmente un nome che non vi giunge nuovo, perché diversi anni fa è stato pubblicato qui in Italia, sotto le insegne di Star Comics, un altro manga di questa autrice, Mushishi, che è un manga che è stato anche pluripremiato, ha vinto l'Excellent Prize al Japan Media Arts Festival e si è aggiudicato il titolo di miglior manga al Kodansha Manga Award. Ma di cosa parla Underwater? Underwater innanzitutto è una serie in due volumi e è uscito appunto nel corso di marzo il primo. Il primo personaggio con cui entriamo in contatto è Chinami, una ragazzina che è iscritta al club di nuoto della sua scuola. Però purtroppo lei e i suoi compagni di squadra non possono nuotare, perché la storia inizia durante un'estate estremamente calda e affosa, caratterizzata da una grandissima siccità, siccità che ha portato una carenza di acqua. E per cercare di risolvere il problema si sono tagliati tutti quanti gli sprechi di acqua, tra i quali anche le acque destinate alle piscine, per tanti ragazzi non possono nuotare. Durante un giorno di allenamento in cui Chinami e i suoi compagni stanno correndo nel campo sportivo, a caso del caldo Chinami sviene. E quando sviene si trova nei pressi di un fiume. Ed è un fiume dalle acque limpidissime, le acque dolcissime, e lei non può fare a meno di cominciare a nuotare. E questo fiume ne sembra quasi reale. Infatti nel momento in cui si riprende, è quasi stupita dal fatto di non essere davvero andata a nuotare, ma di essere semplicemente svenuta, di trovarsi davanti agli sguardi preoccupati dei suoi compagni di classe e del suo insegnante. La sera del giorno stesso, Chinami si addormenta, e quando si addormenta torna al fiume. E questo diventa un sogno ricorrente per lei, tanto che un giorno, mentre si butta nelle acque del fiume, incontra Sumio, un bambino che stava sguazzando in quelle acque e che le dice di abitare assieme al suo papà in un villaggio limitrofo. Va assieme al bambino nella sua casa e scopre che quella casa lei è familiare, che ha già visto quel luogo e anche il padre di Sumio, che tra l'altro le sembra troppo anziano per essere davvero il padre, sembra quasi suo nonno, ha un volto familiare, le ricorda qualcuno, ma non riesce bene a capire cos'è. Continua a fare questo sogno ricorrente, tanto che va a scoprire che Sumio e suo padre sono gli unici abitanti di questo villaggio e tutti gli altri abitanti sono scomparsi e Sumio non sa perché abbiano abbandonato quel luogo. Presa da questo sogno che continua a fare, Chinami si rivolge alla madre e poi alla nonna e scoprirà che questo villaggio esiste davvero, che quel fiume esiste davvero ed ha un legame estrettissimo con la sua famiglia. È difficile parlare di Underwater senza fare troppi spoiler che vi rovinerebbero l'esperienza di lettura perché una delle caratteristiche più belle di questo volume è il fatto che l'autrice sia riuscita a narrare questa storia tassello dopo tassello con una struttura narrativa davvero interessante perché per raccontarci la storia di quello che è il vero protagonista di questo fumetto cioè il villaggio stesso, la narrazione fa dei continui salti temporali. Dal presente si va ad un passato piuttosto remoto, poi ad un passato più vicino, poi si torna al presente poi al passato di nuovo e tutti questi salti temporali danno sempre un apporto in più che può permettere al lettore di capire la complessità della storia che sta leggendo. Questa struttura potrebbe risultare un pochino confusa inizialmente perché costringe il lettore a prestare davvero attenzione a ciò che legge ma ha un aspetto estremamente positivo il fatto che finisce col far immergere il lettore del tutto nelle pagine del manga proprio perché deve continuare a prestare attenzione a quello che gli viene narrato per riuscire a comprendere tutti quanti gli elementi che l'autrice ha deciso di raccontarli. Come vi ho detto poco fa, il vero protagonista di questa storia è il villaggio il villaggio e il suo fiume che viene sviscerato in tutti quanti i suoi aspetti perché ne sappiamo quello che è l'aspetto strettamente geografico perché conosciamo tutti quelli che sono i luoghi più importanti di questo posto Scorci del villaggio ci vengono riproposti dall'autrice in diverse occasioni e l'autrice ce li ripropone in maniera estremamente intelligente perché a un certo punto il lettore si trova ad avere la sensazione che quei posti siano davvero familiari così come lo erano per Cinami quando li sognava e così come lo sono per i suoi familiari e quindi il lettore riesce ad avere una visione del villaggio che è la stessa di quei personaggi che ci stanno narrando la storia e questa è una cosa molto molto interessante di fatti vi consiglio proprio di sfogliare questo fumetto per rimanere incantati dal modo in cui l'autrice è riuscita a riproporre questi spazi che sono protagonisti non soltanto della trama ma anche visivi come vi dicevo è piuttosto difficile parlare di questa storia senza farvi degli spoiler che rovinerebbero la sorpresa della lettura però è anche importante sottolineare altri aspetti della narrazione in particolar modo è interessante vedere come questo villaggio e il suo fiume ci siano stati raccontati su diversi piani perché li vediamo dal punto di vista di personaggi che amano questo luogo che hanno un rapporto molto stretto con esso e quindi il lettore ne percepisce la passione, percepisce l'amore e tutta una serie di sentimenti positivi ci viene raccontato il lato più magico della tradizione legata a questo posto geografico perché si parla della leggenda di un drago che vive nelle acque del fiume ed in particolare in una grotta che è sotto una cascata e a prova dell'esistenza di questo drago ci sono delle sfere delle sfere che portano fortuna e che possono esaudire dei desideri ma oltre a questo aspetto magico e della tradizione c'è anche la dura realtà perché ad un certo punto viene proposto agli abitanti del villaggio un progetto quello della costruzione di una diga una diga che verrà costruita lungo il fiume e che porterà ad un'amarissima conseguenza vale a dire il villaggio verrà sommerso e tutte queste persone che vivono da generazioni in questo luogo che lo amano visceralmente, che amano la vita della campagna saranno costrette ad andarsene perché altrimenti rimarranno sommerse dalle acque di quello stesso fiume che hanno amato tantissimo e quindi dopo tutta una serie di sentimenti estremamente positivi legati a questo luogo, legato al fiume, legato all'acqua e alla natura l'autrice dà al lettore una mazzata letteralmente perché si comincia a provare il dolore e la disperazione di queste persone costrette ad abbandonare un luogo contro la loro volontà e quindi noi seguiamo la battaglia di queste persone che amano visceralmente un posto ma che sono costrette ad abbandonare a causa del progresso a causa della necessità della costruzione di questa diga che verrà fatta a discapito di quelli che sono i desideri delle persone che vivono e amano quel luogo però non c'è solo questo nella storia perché, come è possibile intuire da quello che vi ho raccontato il sogno di Chinami che sembrava inizialmente soltanto un sogno scaturito dal suo desiderio di poter nuotare in un'estate in cui le era proibito utilizzare l'acqua in realtà sarà il mezzo per lei per entrare in contatto più stretto con quelle che sono le sue origini e soprattutto la sua famiglia per legarsi ancora di più alle persone che ama quindi già da questo primo volume si capisce che Underwater è una storia molto intensa emotivamente e che fornisce al lettore tanti spunti di riflessione su vari tipi di tematiche è una storia emotiva e che riesce a mescolare quello che è la realtà con quello che sono degli elementi magici e più onirici tutto quanto disegnato con uno stile delicatissimo che vi farà sicuramente innamorare delle tavole di questa mangaka che ha un tratto leggero ed essenziale ed estremamente emotivo perché riesce a far giungere al lettore tutte quante quelle emozioni che sono legate alla sua storia anche soltanto con la rappresentazione di dei luoghi geografici basta uno scorcio di questo villaggio per riuscire a provare tutti i sentimenti che stanno provando i suoi abitanti io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questa video recensione e vi do come al solito appuntamento alla prossima ciao BitComics grazie a tutti Grazie a tutti